Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un serial che mi ha davvero colpito tantissimo. Non voglio fare troppi spoiler, quindi andiamo con ordine. Charles Albright è l'uomo che la polizia di Dallas ha definito come l'assassino di donne più freddo e depravato nella storia della città. Ha uno sguardo gentile, i suoi occhi sono scuri e infossati, sulle labbra ha stampato un mezzo sorriso incoraggiante. Quando compie 59 anni dimostra di avere un viso finemente scolpito e i capelli grigi accuratamente pettinati. Per tutta la sua vita Charles Albright era stato descritto da molti che lo conoscevano come il ritratto della felicità. Era un uomo apparentemente sereno e senza problemi. Era dunque impossibile credere che avesse potuto uccidere brutalmente tre prostitute di Dallas tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991. La persona che avrebbe dovuto essere arrestata, insistevano gli amici e gli avvocati di Albright, era Axton Schindler, un camionista paranoico e dalla parlantina veloce, che visse in una delle case in affitto di Albright. Le prove indicavano Axton come colpevole, sostenevano non il loro amato Charles Albright. Forse Charles era un po' eccentrico ma veniva considerato certamente innocuo, era persino schizzinoso quando si trattava di violenza. Nella maggior parte dei casi i serial sono uomini giovani e brutali, tristemente ignoranti, sadici, uccidono per delle ragioni spesso contorte. Come poteva allora qualcuno così affascinante e così estremamente gentile decidere improvvisamente, proprio negli ultimi anni della sua vita, di diventare un mostro, un assassino spietato? Un amico di Charles, più precisamente un pastore battista in pensione, sospira per poi dire Senti, conosco Charlie da 30 anni, in tutto questo tempo penso che avrei visto il suo lato oscuro emergere almeno una volta. Credimi, se fosse stato davvero un assassino psicotico non avrebbe potuto ottenerlo segreto per tutto questo tempo. O no? Questa è la domanda con cui vi lascio per fare come nostro solito, Riavvolgere quindi il nastro della vita di Charles per tentare di capire cosa gli sia capitato, perché abbia commesso quegli omicidi, qual è stata la sua vita. Charles nasce il 10 agosto del 1933 ad Amarillo in Texas. In realtà non è un bambino molto fortunato perché la sua mamma biologica lo abbandona a tre settimane dalla sua nascita. Viene però fortunatamente adottato da una giovane donna dei cappelli scuri, Del Albright, che fa la casalinga, e da suo marito Fred, un droghiere di Dallas. Gli Albright vivono nel quartiere borghese di Oak Cliff, che a quel tempo è una bellissima zona residenziale dall'altra parte del fiume rispetto al centro. Del, essendo una casalinga, si dedica alla casa e a fare la mamma a tempo pieno. Il suo scopo nella vita è quello di crescere Charles nella maniera migliore possibile. Del quindi cerca di crescere il bambino perfetto, ma a mio avviso fa una cosa più assurda dell'altra. Inizia levando delle capre nel suo cortile sul retro per far sì che Charles possa bere solo latte di capra, che secondo il suo parere medico è meglio per lui rispetto al latte di mucca. Quando Charles è ancora piccolo, ogni tanto gli mette un vestitino da bambina e gli dà una bambola da tenere e portare con sé. Lo cambia anche tre volte al giorno per tenerlo lontano dalla sporcizia, teme addirittura che possa toccare dei cani e prendere una poliomelite. Del ne è ossessionata, tanto che decide di portare Charles al Parkland Hospital per osservare i malati di poliomelite rinchiusi in enormi polmoni d'acciaio. Del dice a Charles, che all'epoca ha meno di un anno, se intendi toccare quel cane sappi che rischi di passare il resto della tua vita qui. In un'occasione Charles mastica il suo metro da sarta e Del lo mette in punizione per ore in una stanza buia. Quando il bambino fa i capricci, come è anche normale che sia, perché non vuole fare un pisolino, lo lega al suo letto. Poi, quando Charles ha circa 5 anni, gli racconta che la sua mamma naturale era una studentessa di giurisprudenza eccezionale, di appena 16 anni, che aveva sposato segretamente un altro studente ed era rimasta incinta. Quando il padre della ragazza lo era venuto a sapere, le aveva chiesto di annullare il suo matrimonio e di dare il bambino in adozione, altrimenti l'avrebbero tagliata fuori dalla famiglia. Del quindi cerca di far capire a Charles che la sua mamma naturale non l'aveva abbandonato perché non lo voleva, ma perché non poteva proprio tenerlo in quelle condizioni. D'altro canto, ogni volta che conclude di raccontargli questa storia, Del ricorda a Charles che ci sarà sempre lei con lui, non lo abbandonerà mai, perché lo ama immensamente. Non so in quanti di voi abbiano visto la serie tv intitolata Bates Motel, la trovate su Netflix. Se non la conoscete vi basti sapere che è un prequel di Psycho, il famoso film di Hitchcock, ambientato però in chiave contemporanea. La madre del protagonista, ossia Norma, credo sia la perfetta fotocopia di Del, almeno fino a questo momento. Sebbene lei e Fred, suo marito, siano tutt'altro che poveri, la donna di solito lesina all'ora dei pasti, raccogliendo persino le vecchie ossa che il macellaio locale getta in una scatola per i suoi cani. Del dice che avrebbe potuto usarli lei per fare la zuppa, e a volte lo faceva pure. Non che Charles si sia mai lamentato apertamente, apprezza da sempre il fatto che sua madre gli insegni le buone maniere. Del lo esorta a parlare educatamente, sia di altre persone che con altre persone, gli dice che deve rispettare le donne, soprattutto se si tratta di rapporti intimi. E fino a qui è tutto ok, che gli insegna ad essere educato e a rispettare le donne è un ottimo passo avanti. Peccato che per convincerlo a non avere rapporti intimi con le ragazze, gli spieghi come lei e suo padre si sollazzano a letto. Del racconta a Charles che suo padre Fred era davvero, come dire, pieno di energie, ogni volta che la vedeva in camera da letto in intimo, era solito cercare di afferrarla. Gli racconta però che quando ci provava le faceva male, gli rivela che a volte deve per forza fare quelle cose con suo padre, perché altrimenti il matrimonio non potrebbe continuare. Poi dice a Charles che lui invece è diverso, un ragazzo dolce e responsabile, non una bestia come suo marito. Quindi il suo Charles non può assolutamente sfiorare una donna neanche con un dito, letteralmente. Il punto è che, come ovvio che sia, Charles cresce e comincia a organizzare degli appuntamenti con delle ragazze. Del, come una vera e propria mamma modello, è solita seguirlo. Inoltre, prima di ogni appuntamento, Del chiama la madre della ragazza con cui sarebbe uscito Charlie per avvisarla che il suo ragazzo è posato ed educato e non avrebbe fatto nulla di spiacevole. Ora, è chiaro che Del sia iperprotettiva, lo dicono tutti i vicini, gli amici, ma dicono anche che il motivo è logico. Non ha mai cresciuto prima un bambino, quindi era un po' apprensiva per questo motivo, ma nulla di che, insomma. È chiaro che all'epoca ci fosse un'enorme ignoranza, perché Del non ha mai considerato la salute mentale di suo figlio. Non ha mai pensato che gli stesse tarpando le ali, che stesse sbagliando qualcosa, che vestirlo da femminuccia non fosse il massimo, ma soprattutto nel seguirlo durante gli appuntamenti si dimostrava quantomeno ossessiva e invadente. Fin dalla nascita Charles non ha mai potuto giocare come voleva, perché altrimenti sudava e si sforcava. Non ha mai potuto mangiare come voleva, perché Del era fissata col fatto che doveva seguire una dieta equilibratissima, questa volta fortunatamente prescritta da un medico, ma il punto è che non gli permetteva neanche di mangiare una merendina offerta da un vicino. Capite che questa donna era presente nelle giornate di suo figlio quasi costantemente, eccetto i momenti in cui andava a scuola? In pratica stavano sempre insieme e se lui per caso aveva un appuntamento, lei andava con lui. Non poteva neanche accarezzare i cagnolini, eppure Charles non ne voleva nemmeno uno suo, voleva solo accarezzare quelli degli altri, che magari incrociava per strada, ma non poteva. Del inoltre vuole con tutta se stessa che Charles abbia successo. Ogni mattina, infatti, prima dell'arrivo dello scuola, Bus lo fa esercitare con il pianoforte per almeno 30 minuti. Gli insegna il prima possibile a leggere e a scrivere, ma soprattutto gli insegna l'aritmetica, tanto che Charles, quando arriva a scuola, si ritrova a seguire lezioni di argomenti che già conosce, quindi devono spostarlo di due classi alle elementari. A questo punto Del fa un'altra cosa che mi fa pensare alla serie TV Bates Motel, ovvero insegna a Charles la tassidermia. Per chi non lo sapesse, la tassidermia, anche detta impagliatura, è la tecnica di preparazione e conservazione delle pelli degli animali per la loro esposizione. Dunque, come detto Del, insegna Charles a impagliare gli animali. Quando Charles ha 11 anni, lo iscrive a un corso per corrispondenza alla Northwestern School of Taxidermy, tenuto dal professor Elwood. Il professore nota che nel primo libro di lezioni Charles riceve due messaggi, due frasi incoraggianti, ossia sta iniziando a imparare un'arte che è seconda solo alla pittura e alla scultura e un vero tassidermista deve essere un artista. Mentre Charles si mette al lavoro per impagliare gli uccelli che ha trovato, Del è proprio lì accanto a lui. È lei che gli mostra come usare tutti gli strumenti. Il coltello per tagliare il cranio, il cucchiaio per estrarre il cervello, il bisturi per tagliare i bulbi delle orbite, la pinza per estrarre gli occhi. Del scuoia addirittura un uccello davanti a lui per insegnargli a non tagliare troppo in profondità. Charles era un ragazzino dirigente, ecco perché trascorre ore a fare corsi di tassidermia, riuscendo nel tempo a far diventare le sue opere sempre più realistiche. A quel punto sarebbe stato pronto per il tocco finale, ossia gli occhi. Va spesso in un negozio di tassidermia e fissa le scatole piene di occhi finti, occhi di gufo, occhi d'aquila, occhi di cervo. Quegli occhi finti sono delle piccole biglie e Charles ama il loro bagliore iridescente. Avrebbe voluto collezionarli come gli altri ragazzi collezionavano biglie, ma c'è un problema. Del non glielo permette in quanto gli occhi lì venduti sono troppo costosi e c'è sicuramente un modo migliore e più economico per procurarseli. La donna ci mette poco a dimostrarglielo, apre il suo kit da cucito, cerca ciò di cui ha bisogno e si mette al lavoro. Lei e suo figlio alla fine ripongono tutti gli uccelli impagliati nell'armadietto di porcellane di quercia nella parte anteriore della casa. Quelle in effetti sono le prime opere d'arte di Charles. Tutti andavano a casa loro per sbirciare nell'armadio e vederle. Quello che vedono sono degli uccelli belli, realistici, ma ciechi. Al posto degli occhi, Del e Charles cuciono dei bottoni che luccicano debolmente alla luce del soggiorno. Charles è fiero delle sue opere d'arte, ma in fondo non è mai totalmente soddisfatto del suo lavoro, perché non ha mai potuto dare ai suoi animali impagliati uno sguardo vero. Per frequentare il college nel 1952, Charles si trasferisce, frequenta il North Texas State College e ben presto diventa uno degli studenti più popolari della scuola. Charles sa fare tutto. È presidente del club di francese, è il responsabile dell'annuario accademico, è membro del coro e mediano della squadra di calcio. Quando si iscrive a un corso di disegno, il professore d'arte rimane colpito dal bell'aspetto di Charles, quindi lo fa posare per la classe e diventa un modello in pratica. Eppure Charles non è conosciuto solo come un bravo ragazzo, fa parte delle confraternite dell'università, ed è un gran burlone, o meglio, un gran casinista. Una volta si intrufula nella classe di economia domestica, tira fuori un carico di cibo dal frigorifero e cucina una bistecca per i suoi amici. In un'altra occasione fa irruzione nell'ufficio del professore di fisica nel bel mezzo della giornata, scassina la serratura del suo armadietto e ruba l'esame di fisica. Corre in centro per farne una copia, poi ripone il test dove l'ha trovato, nel giro di un'ora. Il professore che insegna in una classe vicina non sospetta di nulla. Credo sia necessario dirlo a questo punto. Charles prova un vero e proprio sollievo nell'essere lontano da casa. Charles ama sua madre, questo è chiaro. Ma ci sono piccole cose che a volte lo infastidiscono. Non è assolutamente certo della storia che lei gli ha raccontato a proposito della sua mamma biologica. Dubita fortemente fosse una brillante studentessa di giurisprudenza, specialmente a 16 anni. Del si agita così tanto per lui che Charles inizia ad avere mal di testa. La donna quindi decide autonomamente che il mal di testa deriva da un problema alla vista, quindi gli fa mettere gli occhiali anche se Charles di fatto aveva una vista perfetta. Charles inoltre è considerato un ragazzo brillante anche perché si era diplomato alla Abramson High School a 15 anni, ciò lo ha reso una specie di celebrità. A un certo punto però la sua reputazione sbanda in quanto riceve pessimi voti per il comportamento assunto a scuola. Ha infatti tirato degli elastici contro altri studenti. Arriva poi a incendiare il vestito del suo insegnante di chimica e abbandona diversi corsi dicendosi troppo annoiato per studiare. Se sua madre l'avesse saputo non avrebbe mai e poi mai perdonato questo comportamento, quindi il ragazzo si intrufola nell'ufficio della scuola, ruba alcune pagelle da una scrivania e le compila di suo pugno. Mostra con orgoglio ai suoi genitori quella pagella totalmente falsificata ma piena di A. Ovviamente anche le firme degli insegnanti e del preside sono contraffatte. Charles spiegherà in futuro che non ha mai fatto nulla di cattivo, ma ha compiuto parecchi atti trasgressivi solo e soltanto per mettersi in mostra con i ragazzi più grandi. Poi ecco che arriva la volta in cui viene scoperto a fare irruzione in una chiesa del quartiere che era inaccessibile. In un'altra occasione ancora viene sorpreso mentre cerca di rubare un orologio da un negozio. Viene così arrestato e condannato a due anni di carcere di cui sconterà solo sei mesi. Charles giura di non aver rubato niente. Gli altri ragazzi, dice, gli avevano chiesto di tenere alcune cose nella sua stanza del dormitorio per loro. Come poteva sapere che le cose erano state rubate? Ovviamente non gli crede nessuno mentre sua madre, Del, si rivolge ai proprietari del negozio cercando di rimborsarli per quanto sottratto. Questo però non impedisce a Charles di essere processato. Secondo voi sua madre come avrà preso questa notizia? Ebbene, prima di tutto Del si offre per rappresentare suo figlio in tribunale, quando è solo una casalinga, non un avvocato. Poi soprattutto quando Charles viene condannato chiede al giudice di prendere il posto di suo figlio. Il giudice ovviamente le dice di no. Del dunque torna a casa e non sa assolutamente come gestire la situazione. La cosa più importante per lei è non fare brutta figura, quindi racconta a tutti che Charles era andato a studiare all'estero. Dopo sei mesi Charles esce dal carcere e riprende il college. Questa volta si trasferisce per frequentare l'Arkansas State Teachers College, un'occasione d'oro per il ragazzo perché può davvero rincominciare da capo. Charles inizia a frequentare una giovane e adorabile ragazza inglese di nome Betty Hister e progetta risposarla. Tutti i suoi compiti di scienze sono ottimi, sebbene studia malapena, consegue una A nel corso di anatomia umana. Ma Charles non ha mai smesso di interpretare il ruolo del burlone della classe. Il suo compagno di stanza si chiama Andrew. È fidanzato con una ragazza molto bella, orientale, con gli occhi a mandorla. Charles resta a dir poco incantato dai suoi occhi. Li ama follemente, tanto che quando Andrew lascia questa ragazza, Charles è molto deluso, secondo il suo parere. Gli occhi della nuova fidanzata di Andrew non hanno nulla a che vedere con quelli della sua ex. Una sera Andrew, guardando delle fotografie della sua attuale fidanzata, si rende conto che c'è qualcosa di strano in quelle foto. Charles ha ritagliato perfettamente gli occhi dell'ex ragazza di Andrew da altre fotografie per poi incollarli sulle foto della nuova ragazza. Ma non è finita qui. Poco dopo, infatti, Andrew va in bagno e si ritrova alle pareti tappezzate interamente degli occhi della sua ex ragazza. Charles non si è fermato qui. Non ancora, perché ha tappezzato anche i corridoi della scuola con le foto degli occhi di quella ragazza. Il punto è che nessuno pensa sia stato Charles. Quel ragazzo è perfetto, è incredibile, quindi è impossibile abbia fatto qualcosa di così folle. E se l'ha fatto, sarà stato uno dei suoi soliti scherzi. Fatto sta che Charles resta uno studente modello, studia tanto, finisce il college e va addirittura all'università dove prende due master in biologia e in scienze naturali. A questo punto sa anche quello che vuole fare nella sua vita, ossia il chirurgo. Ne è sicuro. Quella è la sua strada. Sposa Betty e mettono al mondo una figlia, che ahimè non verrà mai più nominata in questa storia. La figlia di Charles e Betty sparisce. All'età di 36 anni, Charles ottiene una cattedra come professore di biologia al liceo di una cittadina vicina a Dallas. Tra gli studenti ha molto successo. Piace a tutti è un uomo carismatico che riesce a trasmettere la sua passione agli allievi, che quindi studiano volentieri la sua materia. Durante le gite, Charles riesce a recitare in latino tutti i nomi scientifici delle piante che vede. Ma a un certo punto, durante un controllo, il preside della scuola per cui lavora si rende conto che in realtà i suoi diplomi, la sua licenza e i suoi master, sono tutti falsificati. Charles, a quanto pare, dopo essere tornato a scuola, a seguito del periodo di detenzione, ha commesso dei furti anche nel campus. Per questo motivo, la scuola l'aveva espulso. Anche sua moglie, tra l'altro, fa l'insegnante d'inglese. Incredibilmente, nonostante il preside abbia beccato Charles, ammette che non vuole licenziarlo perché è troppo bravo a fare l'insegnante. È un uomo di grande cultura, gli alunni lo adorano follemente, quindi il preside decide di dargli una seconda possibilità. Che, però, Charles manda totalmente in vacca. Poco dopo, infatti, viene sorpreso la stazione ferroviaria con delle valigie piene di materiale scolastico. Non ha rubato nulla di valore, bensì ha preso, ad esempio, delle mazze da baseball. Ed io qui inizio a sentire puzza di cleptomania. Fatemi sapere voi cosa ne pensate perché Charles effettivamente ruba delle cose senza valore. Ruba delle cose a caso, a quanto pare. A questo punto l'uomo viene licenziato, ma ormai è troppo grande di età per pensare di studiare e conseguire quegli attestati che lo condurrebbero all'insegnamento. E ha una moglie e una figlia, tra l'altro. Decidono, dunque, di andare a vivere nel quartiere di Dallas in cui Charles è cresciuto, ossia Oak Cliff. Più precisamente, deciderono di andare ad abitare in una casa non lontana da quella in cui vivono i suoi genitori. Betty nel frattempo continua a lavorare, mentre Charles è disoccupato. Ovviamente sua madre ha fatto in modo che nessuno sapesse delle sue lauree falsificate. Sebbene suo figlio sia disoccupato, inventa storie con i vicini per far credere loro che lavori. I vicini, infatti, hanno un'immagine di Charles non veritiera. Sono convinti sia perfetto, brillante, intelligente, secondo loro lavora sempre, a prescindere anche quando sta in veranda a bere il caffè. La realtà, però, è ben diversa perché a mantenerlo sono sua moglie e sua madre. Charles si sente tranquillo perché ha già dei soldi per mantenersi, quindi inizia a cambiare un lavoro dopo l'altro. Lavora come designer per una ditta che costruisce aeroplani, come illustratore in una società di brevetti, apre uno studio di falegnameria ed è pure un falegname molto apprezzato. Però si stufa, non riesce proprio a farselo piacere questo lavoro, nonostante abbia sostenuto un investimento per aprire il negozio. Lavora pure come torero, non chiedetemi dove e quando perché non ne ho idea, ma fa anche il torero. Lavora persino in un negozio di vini e si convince ad avviare la propria azienda vinicola. Poi però cambia idea e inizia a produrre mazze da baseball. Quando si stufa entra in un negozio di estetica e resta estremamente affascinato dalla raffinatezza di queste donne. C'è una cliente che è lì per mettersi a nuovo, si è tagliato i capelli, ma vorrebbe anche un trucco, una conciatura e dei vestiti eleganti. In men che non si dica, Charles inizia a parlare dicendo che avrebbe potuto migliorare ancora di più il suo aspetto. La proprietaria del negozio, che è anche una sua amica, gli chiede se abbia voglia di fare una prova. Gli fa fare il consulente d'immagine ed effettivamente Charles è bravissimo. Tutte nel negozio rimangono incantate dalla sua bravura. Di conseguenza lo assumono come consulente d'immagine immediatamente. Ovviamente tanto per cambiare questo lavoro non lo soddisfa più di tanto, quindi decide di darsi alla pittura. Realizza dei quadri bellissimi, è un pittore realista e i suoi dipinti sembrano delle fotografie. Un giorno un suo amico gli porta una foto di sua moglie e gli chiede di riprodurre un dipinto identico alla foto. Charles si mette a lavoro, è anche abbastanza veloce, però inspiegabilmente questo dipinto non riesce mai a terminarlo del tutto. Dopo dei mesi il suo amico lo va a trovare e gli chiede di mostrargli quello che ha creato fino a quel momento. Charles glielo mostra, quel dipinto è perfetto, quasi completo, se non per gli occhi. Charles dice al suo amico che gli occhi sono molto difficili da fare, che molti artisti non dipingono bene gli occhi. O meglio, in molti dipinti di altri artisti gli occhi non sembrano vivi mentre lui vuole dare loro vita, la vita che non è mai riuscito a dare alle sue prime opere d'arte, dato che sua madre lo obbligava a utilizzare dei bottoni al posto degli occhi. L'amico si rassegna al fatto che Charles completerà quel dipinto, ma a tempo debito. Passano altri mesi prima che il dipinto sia finito. Quando il suo amico va a vederlo rimane parecchio turbato perché gli occhi ritratti sembrano davvero vivi. Sono estremamente realistici, non ha mai visto un dipinto così ben fatto in precedenza. Intanto Betty lascia Charles nel 1965, dagli anni 70 l'uomo ha guai più seri con la legge. Nel 1971 viene arrestato per aver falsificato alcuni assegni circolari. Lui e sua moglie divorzano ufficialmente nel 1974 e nel 1979 viene sorpreso a rubare un profumo in un negozio. Nel 1980 viene incarcerato per sei mesi per aver sottratto una sega al suo tuttofare. Sua madre ovviamente dice ai vicini che Charles è andato in Florida per svolgere un lavoro molto importante all'interno di una centrale nucleare. Nel 1981 succede una cosa che distrugge totalmente Charles. Sua madre muore di cancro. Qualche mese dopo viene invitato a casa di alcuni amici di famiglia che hanno una figlia di nove anni. Durante la cena Charles chiacchiera allegramente con questi amici, poi finge di andarsene ma in realtà si nasconde in casa. Quando tutti dormono fa delle cose estremamente sbagliate alla figlia dei suoi amici. Precedentemente Charles non si è mai comportato in questo modo inappropriato. Con gli insegnamenti di sua madre poi Charles probabilmente ha addirittura aspettato il matrimonio per avere il suo primo rapporto. Quindi io onestamente non lo capisco. I vicini non solo denunciano Charles appena lo vengono a sapere, ma lo smascherano raccontando dell'episodio all'intero vicinato. Charles per farsi perdonare da questa famiglia decide di vestirsi da babbo e Natale e andare a casa loro per portare i doni alla bambina. È convinto Marcio che questo possa bastare. Insomma lui ha fatto la sua parte. Merita di essere perdonato. No? Ebbene no. Infatti la famiglia giustamente non ritira la denuncia e Charles nel 1985 va a processo. Si dichiara immediatamente colpevole. A questo punto la maschera che porta sempre per farsi apprezzare dagli altri cade. Charles viene guardato come un criminale che ha commesso un orribile crimine. Peccato che gli anni di detenzione a cui viene condannato sono davvero miseri. Appena due anni. Charles ben presto torna libero. Nel frattempo un anno dopo la morte di sua madre era morto anche suo padre. Charles ha rapporti con diverse donne fino a quando incontra Dixie in Arkansas. Dixie è una vedova molto timida e remissiva. Tra loro nasce una storia d'amore degna dei migliori romanzi. Poetica e romantica. E per Charles questo è il periodo più bello della sua vita. Dixie spiega che Charles anche a letto è un amante soddisfacente. Inoltre è sempre molto tenero e gentile. Quello che Dixie non sa però è che Charles con lei è davvero amabile ma poi va nei quartieri a luci rosse per sfogarsi. Per alcune passeggiatrici Charles è un cliente come un altro. A Charles ad esempio piace fare cosene a tre o ricevere servizi orali che la sua compagna Dixie non è disposta a fare. L'uomo col tempo arriva a conoscere tutte le passeggiatrici della zona ed è solito dare loro una mano se si trovano in difficoltà finanziaria. Quindi tutte le ragazze gli vogliono davvero bene. Con alcune delle ragazze Charles intrattiene una relazione platonica. A lui non piacciono fisicamente ma le fa salire nella sua macchina, le porta a mangiare un hamburger e parla con loro per poi riportarle sul luogo di lavoro, elargendo anche una mancia. Charles in intimità chiede spesso di essere sculacciato come un bambino, di essere trattato come un bambino. Una passeggiatrice in particolare ha ancora gli incubi, se pensa Charles. Lui l'aveva caricata in macchina per andare in un motel a intrattenersi a letto. Ma una volta in camera Charles la lega a letto e inizia a frustarla con la sua cintura, insultandola. Non ha neanche avuto rapporti intimi con lei. Alla morte del padre Charles eredita 96.000 dollari e tutte le proprietà immobiliari dei genitori che decide di mettere in affitto. Una di queste proprietà immobiliari è una semplice casetta un po' sgangherata che viene affittata da Hexton Schindler, un camionista. Il soprannome di Hexton era Speedy perché parlava velocissimo, inoltre era una persona strana. Hexton era un accumulatore seriale, la sua piccola casetta era totalmente ricoperta di spazzatura. Viveva senza elettricità e acqua corrente nonostante avesse un lavoro. Usava una lanterna per fare luce e bottiglie d'acqua per lavarsi e mangiare. Arriviamo al dicembre del 1990. Mary Pratt, di 33 anni, è una nota passeggiatrice nella zona di Oak Cliff, un'area sottosviruppata e quasi dimenticata dell'estremo sud di Dallas. Mary non è una di quelle passeggiatrici che si mettono in mostra con abiti e lustrini perché tutto ciò che guadagna lo spende per comprarsi le sostanze. È una donna che non ama dare spettacolo, se ne sta nel suo angolino tranquilla aspettando che i clienti si fermino davanti a lei. Va a lavorare vestita con dei semplici jeans e delle scarpe da tennis. Si limita a indossare delle magliette un po' più appariscenti e scollacciate che mettano in risalto il suo seno prosperoso. Mary, così come le altre passeggiatrici, è una donna molto prudente anche perché Dallas in questo periodo non è affatto tranquilla. Si verificano parecchi omicidi, di conseguenza loro cercano di rimanere nella zona dove c'è il loro protettore perché se accadesse qualcosa le potrebbe aiutare. Stanno anche molto attenti ai nuovi clienti. Mary non dà confidenza mai a nessuno. Ogni tanto chiede ai suoi clienti abituali di riportarla a casa dai suoi genitori, nel suo borgo di Lancaster, a sud di Dallas. Questi ultimi non hanno idea del lavoro che faccia Mary. Il 12 dicembre del 1990 Mary va a lavorare, come sempre, nel quartiere a luci rosse di Oak Cliff. Il mattino successivo, 13 dicembre, viene ritrovato il suo corpo in un'area borghese, all'estremo sud di Dallas, lontana da Oak Cliff. È parzialmente nuda, indosso solo la maglietta e reggiseno, ma entrambi sono arrotolati fino al collo. È piena di contusioni, sia sul volto che sul corpo, ed è stata uccisa con un colpo di pistola calibro 44 dietro la nuca. Il fascicolo di Mary Pratt viene consegnato a John West Palin, un detective dell'omicidio del dipartimento di polizia di Dallas. West Palin è uno degli investigatori più tenaci del dipartimento. Dà un'occhiata al fascicolo di Mary Pratt e si rende conto che il caso sarebbe stato risolto più dalla buona fortuna che dal buon intuito investigativo. L'omicidio di Mary Pratt è un caso di corpo abbandonato, uno dei tipi di omicidio più difficili da risolvere. È stata uccisa in un luogo e scaricata da un'altra parte. Non ci sono testimoni né dell'omicidio né dello scarico, non viene trovata nessuna arma del delitto, ci sono poche prove forensi, nessuna impronta digitale e nessun movente. In pratica Mary Pratt potrebbe essere stata uccisa da chiunque. Accompagnato dal suo partner, il detective dell'omicidista, Stan McNeer, il detective West Palin si reca all'ufficio del medico legale della contea di Dallas per assistere all'autopsia di Mary Pratt. Per loro quello è un viaggio dall'esito quasi scontato. Entrambi gli uomini sanno che l'autopsia avrebbe mostrato una ferita d'arma da fuoco come causa della morte. Mentre la dottoressa Elizabeth Peacock, una delle più giovani patologhe del personale, posa la tazza del caffè per iniziare l'esame, i detective si trovano a breve distanza dal carrello di plastica blu dove giaceva il corpo di Mary Pratt. Elizabeth Peacock nota immediatamente le tracce di ago sulle braccia di Mary Pratt, ha un tatuaggio del coniglietto di Playboy sul petto e un foro di proiettile in testa. Apre la palpebra destra di Mary Pratt, fa lo stesso con la sinistra, poi di colpa esclama Oddio! Non ci sono più! In effetti Mary non ha più i bulbi oculari. L'orbita è completamente vuota ed è una ferita pulitissima, sembra un lavoro fatto da un chirurgo. Elizabeth Peacock è sbalordita. Velocemente il detective contatta l'FBI. Attraverso i loro computer l'FBI osserva i dati sulle mutilazioni più insolite e depravate della nazione, corpi fatti a pezzi, organi rimossi, persino occhi perforati con un coltello a seguito di un attacco frenetico. Ma un agente dell'FBI dice al detective di non aver mai avuto a che fare con un caso del genere. I pollizzotti di lunga data di Dallas sono orgogliosi di comportarsi in modo, in un certo senso, insensibile rispetto a tutto ciò che capita intorno a loro. In questo modo riescono a lavorare meglio, ma questa volta il detective West Palin è molto coinvolto. L'uomo chiede al suo partner che tipo di persona vorrebbe i bulbi oculari di una ragazza? Come già vi ho detto inizialmente, Mary è stata uccisa in un luogo e scaricata da un'altra parte. Non ci sono testimoni né dell'omicidio né dello scarico, non viene trovata nessuna arma del delitto, ci sono poche prove forensi, nessuna impronta digitale e nessun movente. Quindi le indagini si concentrano sulle colleghe di Mary, in particolare su quelle che la sera del 12 dicembre erano lungo la sua stessa strada. Gli investigatori concludono velocemente che chi ha ucciso Mary doveva per forza conoscerla. Le colleghe fanno un elenco di tutti i clienti abituali di Mary, ma non ci sono sviluppi. Quella mattina in particolare il detective non è sorpreso di vedere Veronica Rodriguez, una passeggiatrice con occhi color carbone, appena 26 anni, che aveva vissuto una vita miserabile. Era stata arrestata per prostituzione numerose volte. Gli investigatori accostano l'auto davanti a Veronica Rodriguez. Uno degli agenti abbassa il finestrino e nota un brutto taglio sulla fronte di Veronica. L'agente le chiede cosa si è successo e Veronica esclama Non arrestarmi, sono quasi stata uccisa! Veronica Rodriguez spiega agli ufficiali che la notte precedente era stata catturata e portata a sud, fino a un campo. Poi le era stata usata a violenza. Il colpevole era un uomo bianco che ha cercato di ucciderla, ma lei era riuscita a scappare correndo verso una casa di un suo conoscente. I due investigatori sanno che Veronica Rodriguez è una bugiarda. Infatti, per attirare l'attenzione, aveva il brutto vizio di inventare delle storie per impietosire specialmente gli investigatori. Diventa quindi una testimonia inattendibile, anche perché Veronica molto spesso è offuscata dalle sostanze che assume. Due giorni dopo, durante un giro pomeridiano oltre lo Star, un albergo che le passeggiatrici frequentavano abitualmente per incontrarsi con i clienti, i due investigatori vedono di nuovo Veronica Rodriguez. È seduta con un uomo bianco, di mezza età e calvo, nel suo camion. Uno dei due detective si avvicina a un lato del camion per prendere Veronica e escortarla nell'auto della polizia, mentre l'altro detective va dall'altro lato del camion per parlare con l'uomo. Gli chiede di esibire la patente che lui consegna senza alcun problema, si chiama Exton Schindler, abita al 1035, Eldorado. Il detective inizia a fare ricerche su questo uomo di nome Exton Schindler e trova solo alcune multe non pagate. Poi, improvvisamente Veronica Rodriguez grida, oh non arrestarlo, è l'uomo che mi ha salvato dall'assassino, quello è lui! Gli ufficiali perplessi guardano di nuovo l'indirizzo di residenza. 1035 Eldorado. Non si trova nel sud di Dallas dove avrebbe avuto luogo l'attacco di Veronica Rodriguez. Exton abita in un quartiere di Oak Cliff, a soli 5 minuti di auto dallo Star, il motel a luci rosse. Se ricordate, Exton era uno degli inquilini di Charles, era definito Speedy perché parlava velocissimo ed era un accumulatore seriale. Dice immediatamente agli investigatori che lui Veronica la conosce da molti anni, le sta solo dando un passaggio fino al motel, ma non l'ha protetta da nessun assassino. Non ha nemmeno mai avuto rapporti con lei a dirla tutta. Quindi, la storia di Veronica viene immediatamente inficciata dalla risposta di Exton. I detective pensano che Veronica stia mentendo come al solito e per non aver dubbi decidono di prendere le generalità di Exton, compreso il suo indirizzo di casa. Se ricordate, l'indirizzo di casa di Exton è in realtà quello di una proprietà appartenente proprio a Charles. Arriviamo al febbraio del 1991, quando Susan Peterson, la seconda vittima, viene ritrovata una domenica mattina sulla stessa strada sud di Dallas dove era stata scaricata Mary Pratt. Come Mary Pratt, Susan è per lo più nuda, anche lei è una passeggiatrice e ha 27 anni. Le hanno sparato alla testa, al torace e allo stomaco. Le sue palpebre sono chiuse. Poiché il suo corpo viene rinvenuto dall'altra parte della strada, appena fuori dai confini della città, la giurisdizione del caso cambia. A occuparsi di questo omicidio è il dipartimento dello sceriffo della Contea di Dallas. Un detective di nome Larry Oliver, che non ha mai sentito parlare dell'omicidio di Mary Pratt, viene chiamato sulla scena. Oliver si occupa di portare il corpo nella sala dell'autopsia dove un patologo inizia a eseguire un esame esterno standard. Il patologo successivamente apre una palpebra, poi l'altra, facendo a Oliver di avvicinarsi al tavolo. E Oliver non riesce a credere a quello che sta. Vedendo, i bulbi oculari della donna senza vita erano stati tagliati abilmente. Quando il patologo dice che il dipartimento di polizia di Dallas aveva tra le mani un caso simile, risalente solo a due mesi prima, Oliver fa dei controlli. Il meno di 24 ore si recca negli uffici omicidi del dipartimento di polizia per vedere il detective John West Palin. I funzionari di polizia evitano deliberatamente l'espressione omicidi in serie per descrivere ciò che sta accadendo. West Palin continua a riferirsi all'assassino come a un ripetitore. Tutti sanno che stanno cercando un assassino contorto e brillante, qualcuno che ha abbandonato i corpi in tranquille strade residenziali dove sicuramente sarebbero stati trovati il mattino successivo. A questo punto il dipartimento di polizia ha un obbligo maggiore. Avvertire la comunità che può essere in pericolo, anche se ciò significa avvertire pure le passeggiatrici. Mentre i volantini vengono affissi intorno allo star, chiedendo alle passeggiatrici di stare alla larga dalle strade, gli investigatori si incontrano con la stampa per discutere dei due omicidi. Sebbene nessuna informazione sugli occhi mancanti venga ufficialmente divulgata, la voce trappela rapidamente ai giornalisti. L'uomo dimostra delle abilità chirurgiche per il modo in cui lo ha fatto, dice un detective a un giornalista. Con sgomento del dipartimento di polizia ne segue una frenesia mediatica. I detective John Matthews e Regina Smith siedono nella macchina della polizia che leggono gli articoli di giornale sulla morte delle passeggiatrici, pubblicati in prima pagina. Ipotizzano l'assassino conosca ogni angolo del quartiere delle passeggiatrici, tutti i vicoli e tutte le strade. Questa volta, quando i detective si avvicinano allo star, le passeggiatrici non si tengono a distanza. Piuttosto si riversano fuori dalle loro stanze, circondando l'auto della polizia e iniziando a rivelare le proprie liste personali di sospettati. Il detective chiede alle ragazze di non uscire in strada, ma le passeggiatrici nere non accettano questo consiglio del detective. Dicono tutte, sta cercando le ragazze bianche, tesoro, non noi. Veronica Rodriguez nel frattempo parla con più giornalisti possibili e gli inquirenti si rendono conto che è davvero una testimona inattendibile. All'inizio dice di aver assistito alla sparatoria di Mary Pratt, poi sostiene di aver incontrato un uomo che si era solo vantato di aver ucciso Mary Pratt. Poi dice che non sapeva nulla della morte di Mary Pratt. Parla anche della violenza da lei subita e a questo punto l'uomo che l'ha aggredita non è più bianco, bensì un ispanico. Infine cambia di nuovo versione e suggerisce che poteva essere nero. Quasi tutti quelli che parlano con lei pensano si sia fritta il cervello con le sostanze. Arriviamo al 19 marzo 1991. L'ultima vittima è Shirley Williams. Il detective West Palin aveva riempito quattro quaderni neri a spirale con appunti sul caso di omicidio di una passeggiatrice. Era tornato indietro e aveva riesaminato la scena del crimine. Unità speciali sotto copertura erano state inviate per sorvegliare le aree della prostituzione ed eseguire controlli informatici sulle targhe dei veicoli che passavano, solo per vedere se i proprietari potessero avere precedenti penali irrisolti. Questo era un assassino con un grande controllo, un uomo che si rifiutava di farsi prendere dal panico. Dobbiamo rispondere a tre domande, dice il detective, durante le riunioni sul caso. Numero uno, perché insegue le prostitute? Numero due, perché due corpi sono stati scaricati nella stessa strada? E numero tre, perché gli occhi vengono rimossi? Gli investigatori iniziano a proporre delle teorie. Forse l'assassino aveva preso l'AIDS da una prostituta ed era in cerca di vendetta. Forse credeva alla vecchia superstizione secondo cui l'immagine di un assassino rimane sempre negli occhi della persona che uccide. Forse credeva che gli occhi di una persona morta lo avrebbero seguito per sempre. O forse l'assassino aveva preso i bulbi oculari per alimentare qualche sua fantasia. L'unica cosa che il detective sa per certo è che l'assassino è solito uscire in tarda notte. È abbastanza forte da trascinare quelle ragazze dentro e fuori da un'auto. Inoltre ha delle abilità chirurgiche. Probabilmente ha anche bisogno di una stanza ben illuminata per compiere il suo intervento chirurgico. Ipotizzano dunque che l'assassino possa essere un chirurgo impazzito. Improvvisamente nelle prime ore del mattino del 19 marzo emerge che l'assassino ha agito diversamente. Torniamo a Shirley Williams. Su Fort Worth Boulevard, un altro ritrovo di passeggiatrici a poche miglia dal motel Star, una passeggiatrice nera di nome Shirley Williams esce dall'Avalon Motel, dove lavora come domestica durante il giorno, e fa la passeggiatrice di notte. Secondo un'altra passeggiatrice che l'ha vista, Shirley indossava jeans e un impermeabile giallo e sembrava non essere lucida mentre barcollava da sola sul marciapiede. Viene trovata alle 6.20 del mattino successivo, scaricata in una strada residenziale, a mezzo isolato da una scuola elementare nel cuore di Oak Cliff. Accanto al suo corpo è presente un preservativo non aperto. Arrivati sulla scena del crimine, il detective dice al medico legale «Vai a guardarla negli occhi e dimmi se ci sono». Il medico legale apre le palpebre e dice semplicemente «Andati». Il detective si rivolge quindi al suo partner dicendogli «Abbiamo la vittima numero 3». L'autopsia sul corpo di Shirley Williams dimostra che questa volta l'assassino è stato molto più impreciso nella rimozione degli occhi. La punta rotta di una lama ex acto viene trovata incastrata nella pelle vicino al suo occhio destro. Ma anche in questo caso non ci sono testimoni, nessuna arma del delitto, nessuna impronta digitale. Il quartiere a luci rosse si svuota, le uniche che tornano in quella zona sono ragazze davvero disperate e tra queste ce n'è una di nome Brenda. Brenda viene messa in guardia dagli agenti, vanno da lei e le dicono di fare attenzione perché c'è in giro un uomo che commette degli omicidi seriali. Brenda di tutta risposta dice agli agenti che torna ogni volta in strada perché vorrebbe vendicarsi di un cliente che l'aveva aggredita. Lo descrive come un uomo bianco, brizzolato e alto. Spiega che l'aveva fatta salire in macchina e lei gli aveva detto di andare al solito motel, lo star, anche perché lì dentro tutte le passeggiatrici si sentono decisamente più a sicuro. Questo uomo però si rifiuta e insiste per portarla in un posto che conosce lui e che gli piace molto, ma Brenda si tira immediatamente indietro dicendogli che non l'avrebbe mai seguito in un posto a lei sconosciuto, specialmente perché non era un suo cliente abituale. A questo punto l'uomo si infuria e inizia a strillarle in faccia a parecchi insulti per poi pronunciare questa frase. Io le odio le passeggiatrici, ucciderò tutte voi passeggiatrici, prima o poi. Le si avventa addosso per farle del male, ma Brenda, in borsa, ha uno spray al peperoncino che prontamente spruzza in faccia all'uomo. In questo modo Brenda riesce a fuggire. Per il resto della giornata, i due detective non riescono a togliersi dalla testa la storia di Brenda. La mattina dopo, mentre stanno effettuando il check-in per il lavoro nella loro sottostazione di polizia, un detective che lavora il caso dice «Dobbiamo eseguire un controllo al computer su quell'Exton Schindler». Poiché i computer del governo della Contea contengono più informazioni sui cittadini rispetto ai computer della città, due detective guidano fino all'ufficio dell'agente della Contea di Dallas, vicino a Jefferson Boulevard. Lì, un vice poliziotto in servizio, Walter Cook, accetta di aiutarli. Seduti intorno al terminal, gli ufficiali chiedono a Cook di digitare l'indirizzo di Schindler, 1035 Eldorado. E così, ecco che appare il nome di Charles Albright. È lui il proprietario di quella casa. Ma chi è Charles Albright? Dov'è Axton Schindler? Dopo ulteriori ricerche scoprono che questo Charles Albright possiede anche una proprietà in una strada chiamata Cotton Valley. Cotton Valley è proprio nel quartiere a sud di Dallas dove sono state trovate le prime due vittime. Walter Cook spiega di essere andato in ufficio una mattina presto e di aver risposto alla chiamata di una donna che non si sarebbe identificata. La donna era amica di Mary Pratt e tramite Mary aveva incontrato un uomo con cui era uscita brevemente. Era un uomo molto simpatico, ma aveva uno strano amore per gli occhi. Le ha addirittura detto che teneva le lame ex acto nella sua soffitta. Walter Cook le chiede il nome dell'uomo e la ragazza risponde Charles Albright. Se qualche altro agente di polizia non avesse aiutato i due detective quel giorno, il collegamento con Albright non sarebbe mai stato stabilito, ma la fortuna ha prevalso. Walter Cook digita un altro codice e le informazioni personali di Charles Albright appaiono sullo schermo. Nato il 10 agosto 1933, indirizzo 1035 Eldorado. In qualche modo quindi Hexton Schindler e Charles Albright sono collegati. Forse Charles è un amico di Hexton, Charles dunque era quello che aveva cercato di uccidere Veronica Rodriguez. Con il cuore in gola i detective si precipitano alla divisione di identificazione della contea e chiedono di vedere la fedina penale di Albright. Gli agenti così scoprono una serie di furti, con scasso, falsificazioni e l'accusa di aver fatto cose molto sbagliate a una bambina. L'impiegato tira fuori una foto segnaletica di Charles. È un uomo piuttosto bello, con i capelli grigiastri, lineamenti spigolosi e gli occhi scuri e infossati, proprio come l'uomo descritto da Brenda White. Nella foto Charles è accigliato, il viso è perplesso, come se fosse sorpreso di essere stato catturato. Ben presto quindi stampano alcune fotografie segnaletiche di Charles e di altre persone che gli somigliano per poi mostrarle a Brenda White. I detective rintracciano Brenda White al solito angolo di strada e le chiedono se conosce qualcuno degli uomini delle foto segnaletiche. Brenda indica senza esitazione la foto di Charles, più recente, dicendo che è sicuramente lui l'uomo che l'ha aggredita. Poco dopo mostrano le stesse fotografie a Veronica Rodriguez. Quando Veronica Rodriguez arriva a guardare la terza foto, ostia quella di Charles, inizia a tremare. Di conseguenza si rifiuta di riconoscerlo, non vuole neanche più guardare quella foto. Il riconoscimento da parte di Veronica, però, era importante. Se avesse riconosciuto Charles, la polizia di Dallas avrebbe potuto sporgere denuncia per tentato omicidio e ottenere un mandato di perquisizione. Potrebbero trovare in casa sua delle prove che lo collegano agli omicidi. Gli investigatori capiscono che Veronica ha paura, quindi tentano di tranquillizzarla. Dopo un giorno lei si convince a fare il riconoscimento, indicando la foto di Charles. Alle due e mezza del mattino del 22 marzo, mentre una leggera pioggia cade su Oak Cliff, una squadra di ufficiali tattici fa irruzione dalla porta d'ingresso del 1035 e il Dorado. Charles viene svegliato di soprassalto mentre sta dormendo con Dixie, la sua compagna. I detective lo ammanettano e lo portano via, ma Charles rimane estremamente composto. Soprattutto non parla, non dice nulla. Per molto tempo dopo l'arresto di Charles, quasi tutte le persone coinvolte nel suo caso si sono chieste se la polizia avesse prove sufficienti per condannarlo per omicidio. Anche perché lui non confessa e non confesserà mai i suoi omicidi. Durante l'interrogatorio si comporta come se non avesse mai sentito i nomi delle prostitute assassinate. La polizia perquisisce ogni centimetro quadrato delle sue proprietà a sud di Dallas. Perquisiscono la sua casa sulla scogliera di Oak sei volte. Le ricerche conducono a una serie di oggetti interessanti. Lame per falegnameria, lame ex acto, una copia di Grace Anatomy e almeno una dozzina di libri sul vero crimine. Dietro la mensola del cammino costruita a mano da Charles, la polizia scopre uno scompartimento nascosto pieno di pistole e fucili. Tuttavia nessuno si è rivelato essere l'arma del delitto. Inoltre la polizia non riesce a trovare nessuno che ammetta di aver visto Charles con le tre passeggiatrici la notte in cui hanno perso la vita. All'arrivo della data del processo Veronica Rodriguez decide di testimoniare per la difesa, quindi testimonia a favore di Charles. Afferma che lei e Charles non erano mai stati insieme e che un detective l'aveva costretta a scegliere la fotografia di Charles. Exton Schindler continua a negare di aver salvato Veronica da Charles, ma Toby Schuch, un procuratore di 33 anni che lavora per l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Dallas, ha un asso nella manica. Per la prima volta nella sua storia l'ufficio del procuratore distrettuale decide di perseguire una condanna per omicidio basata esclusivamente su prove alquanto controverse. Alcuni giorni dopo l'arresto di Charles il laboratorio forense della città riferisce che i peli trovati sui corpi delle passeggiatrici morte erano simili ai campioni di capelli prelevati dalla testa di Charles e dai peli ricavati dall'area pubblica. I tecnici di laboratorio riferiscono che i peli trovati sulle coperte nella parte posteriore del camioncino di Charles erano simili ai campioni di capelli delle prime due passeggiatrici uccise, ossia Mary Pratt e Susan Peterson. I capelli ritrovati nell'aspirapolvere di Charles corrispondevano ai capelli della terza passeggiatrice uccisa, Shirley Williams. Un ulteriore pezzo del puzzle è stato fornito dai detective John Matthews e Regina Smith. Gli ufficiali interrogano una passeggiatrice di nome Tina Connolly, la quale afferma che Charles era uno dei suoi clienti pomeridiani su Fort Worth Boulevard. Dice di non averlo mai visto girare al buio, tranne in un'occasione, ossia nella notte in cui Shirley Williams è scomparsa. Tina Connolly conduce i detective in un campo appartato vicino a Fort Worth Boulevard dove Charles la portava a fare cose intime. Lì individuano un impermeabile giallo proprio come quello che Shirley Williams indossava prima di sparire. E una coperta. I peli dell'impermeabile della coperta corrispondono ai capelli di Charles. L'avvocato difensore di Charles cerca di convincere la giuria che l'accusa contro Charles era sorretta dalle prove circostanziali più fragili. L'assassino, sostiene, è probabilmente Exton Schindler che per caso aveva lasciato la città la settimana del processo. Certo la polizia aveva molte domande senza risposta su Exton. Un detective però aveva passato ore a interrogarlo cercando di determinare se avesse assistito Charles negli omicidi o almeno fosse consapevole del fatto che stesse uccidendo le donne nella proprietà in affitto. Ma non c'era nulla che lo legasse al caso tranne una scatola di proiettili calibro 44 vuota trovata dietro la casa che Charles avrebbe potuto lasciare lì, lui stesso. Quando le foto di Exton e Charles vengono mostrate a dozzine di passeggiatrici nessuna riconosce Exton ma molte riconoscono Charles. Inoltre non vengono trovati i capelli sulle passeggiatrici senza vita che potrebbero essere collegati ad Exton. Charles non testimonia mai per tutto il processo rimane seduto in silenzio sulla sedia. Le spalle sono accasciate e cerca di apparire come una figura debole. Toby Shook chiama in modo derisorio Charles dicendo questo ex insegnante di biologia, torero, asso del college, uomo intelligente che proprio non riesce ad avere un lavoro. Il 19 dicembre quando la giuria torna con un verdetto di colpevolezza, ossia l'ergastolo, Dixie, la compagna di Charles, crolla in aula. Gli amici di Charles evitano i giornalisti nel corridoio del tribunale come se non volessero essere biasimati per aver avuto a che fare con un feroce assassino senza riconoscerlo per quello che era. D'altro canto Charles non si lamenta della vita in prigione, legge due libri alla settimana sulla guerra civile, sta prendendo appunti per un libro che vuole scrivere sulle mogli dei generali. È impegnato a lavorare nella falegnameria della prigione, allena la squadra di softball del carcere e scrive tante lettere a Dixie. Perché un uomo così gentile e spensierato dovrebbe voler strappare gli occhi a una passeggiatrice? Perché era così tormentato dagli occhi, quel simbolo potente e universale, le finestre dell'anima? Nel mito antico, Edipo si strappò gli occhi dopo aver commesso la trasgressione di dormire con sua madre. Charles Albright, un Edipo perverso, ha strappato gli occhi alle donne per aver commesso la trasgressione di dormire con degli uomini per caso? Forse ha rimosso i loro occhi per un improvviso bisogno di mostrare al mondo che avrebbe potuto essere un grande chirurgo? Forse ha scaricato quel terzo cadavere davanti alla scuola per mostrare la sua frustrazione per non essere mai diventato un insegnante di biologia? O forse un demone era inaguato fin dalla sua infanzia, quando gli occhi erano rimasti assenti nei suoi uccellini impagliati? Qualunque segreto Charles ce l'asse rimarrà con lui per sempre, infatti l'uomo muore nel 2020 all'età di 87 anni a causa del virus che ormai tutti conosciamo e con cui stiamo facendo i conti da anni. Ed è così che si conclude la storia di Charles Albright, io onestamente ho trovato interessante questo caso per gli occhi, chiaro, ovvio, anche il nome del mio canale dovrebbe suggerire questa cosa. Quindi sono curiosa, sono curiosa di sapere se voi conoscevate questo caso e soprattutto sono curiosa di sapere cosa ne pensate della scelta di togliere gli occhi alle vittime. Ci sono tante supposizioni, possiamo immaginarlo, possiamo immaginare più motivazioni per cui togliesse gli occhi alle sue vittime. Purtroppo però non ne abbiamo una certa, ma io sono curiosa di sapere quale sia la vostra opinione, quindi come al solito ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.